Ben ritrovati con la riunione di redazioni, siamo Gianluca Rossi, ciao Gianluca, ciao a tutti amici del calcio, Michael Cuomo, ben ritrovati, buon pomeriggio, Dodo Longhi, buon pomeriggio, ciao a tutti, e vado anche da Matteo Caroni, ciao a Matteo, grazie, ciao a tutti. Allora, apertura, leggo qua, Sport Mediaset, le Iene hanno raggiunto l'arbitro Serra, che si difende e dice non ho offeso Murigno, avrebbe detto ti stai mettendo lo stadio contro, vai nell'aria, vai nell'aria, anche se il labiale sembrerebbe un po' smentirlo, ecco. Ma Serra è quello, bisogna chiedere a Michael, ma che lo conoscevi, non è quello delle persone. Mila Spezia, Serra e Mila Spezia. Dice non ho detto nulla che potesse offendere Murigno, non ho detto quella parola lì, ho detto un'altra cosa, ho detto ti stai mettendo lo stadio contro, vai nell'aria, vai nell'aria, una ricostruzione che differisce molto rispetto a quello che è stato scritto e che evidentemente è uscito dalla Roma. Ma perché Murigno è andato in panchina alla fine? Perché hanno fatto un supplemento d'indagine e hanno ritenuto alla fine che non ci avesse torto, penso io, no? Sennò Murigno è che andrà in panchina. No, per fare ulteriori accertamenti. Eh, ho capito. Non hanno preso una decisione, hanno sospeso il giudizio. No, l'ho detto, l'ho detto, se c'è bisogno di ulteriori accertamenti e quindi per il momento è sottosospensiva e quindi ha potuto allenare, vuol dire che non è una cosa così chiara come altre. Cioè vuol dire che... Ma era... Ovviamente dovevano interrogare a Serra e chiedere a Serra cos'era successo via telematica. Ma devono, pare, esserci stati dei problemi. Non so, non gli andava l'ADSL, non lo so. Ma dai, adesso te o mi sembra... Però, come ce l'hanno raccontato loro, non abbiamo potuto avere una comunicazione proficua con Serra, lo dobbiamo risentire. Dato che il campionato era l'imminente per riprendere, ne riparliamo dopo. Sì, però, scusami, intanto al momento Morigno è stata sospesa la decisione Serra, fermo due giornate. Sì, ma vuol dire... Cioè, scusate, Spalletti l'hanno squalificato, mi pare, correggimi che dai più memoria di me. Una volta che guardava la telecamera sorridendo col sorriso bezzardo... No, fece tipo un gesto così, a Genova della Sala. Ma non stava, l'hanno squalificato con il famo o io stavo guardando la telecamera... Cioè, qui evidentemente o Serra, adesso loro te la girano, ma o Serra non si capisce bene cosa ha detto, cosa ha scritto, se no, insomma, si possono sentire anche per telefono. Cioè, adesso io non voglio farla volare, però se a un certo punto dicono, vabbè Serra, non si è stato chiaro, ascolta, prima di fermare uno, riordina le tue idee. Perché, cioè, Serra adesso, dicevo Michael scherzando, non è mica la prima volta che erano usciti equivoci. Gente che si era innalzata, i vertici arbitrali hanno chiesto scusa al mezzo, ma è accaduto. Cioè, per quella cosa lì, Serra non si mai capisce, uno dice che è andato negli spogliatoi chiedendo scusa ai giocatori, l'altro dice che invece... Che si era messo anche a piangere dopo il minuto. Cioè, evidentemente, non è un uomo... Perché credo che la tolzero la squalifica a Spalletti, eh? Sì, ma, ripeto, io mi ricordo... Era quella quando l'Inter vince con Gordi Brozovic. A Giro, Brozovic, nei minuti finali. Adesso ho fatto quell'esempio lì, ma ci sono stati degli allenatori squalificati per molto meglio, meno di quel diverbo a vedere. Adesso io parlo di quelli dell'Inter, ma ci sono stati anche del Milan. Se non vado errato, entro venerdì, Murigny è stato ascoltato, Serra dovrebbe averlo fatto, entro venerdì. Intanto l'inviato delle Iene, poi stasera ci sarà il video, probabilmente lo manderemo anche in onda, dice ma perché Murigny era così arrabbiato? Lì, Serra non dice niente però. Eh, ma vedi che, cioè, allora, se poi ti è scappato... Ma gli hanno strappato questa frase che non avrebbe neanche potuto dire, magari per contratto. No, no, non magari. Non avrebbe potuto dire. Anche se però c'è il precedente di quello che oggi è il suo designatore. Certo, no. Quello che dico io è che si hanno sospeso la squalifica di Murigny. E questa è la storia dello sport. Spare di Buffera, Serra, l'arbitro all'Iene. Scusami Michael, prego. No, dico evidentemente, dai due interrogatori sono emersi degli elementi per i quali la procura e quindi poi la giustizia sportiva abbia detto ok, fermiamoci un attimo e riformuliamo tutto. Perché entro venerdì andavano ascoltati. Non è normale. Non è normale. Esce più di un dubbio. Mi sa che nell'esprimere quello che è successo è stato molto più chiaro e convincente e credibile, evidentemente, Murigny ha di Serra. Certo. E ho capito, però, voglio dire, se Murigny l'avesse insultato, quante volte gli allenatori scrive, c'è lì... Murigny punta il dito su Serra quando viene spusco, come per dire, colpa sua, ha fatto tutto lui. Sì, ma poi c'è lì anche mi pare piccinino, adesso l'altro, qui guardo... Non lo so, a me sembra che i ragazzi non siano stati chiari, io non so se Murigny ti mette in soggezione, però se Murigny ti ha mandato a fa, scrivi, Murigny viene squalificato e basta. Se al venerdì non se la sento di squalificare Murigny, perdonatemi, è perché Serra, cioè evidentemente ha cambiato cinque volte la sua versione, sì, poi fa comodo dire, eh, per via telematica non l'abbiamo... cioè evidentemente Serra non ha capito nemmeno lui cosa ha detto lui, non se lo ricorda, perché mi sembra talmente ovvio, no? Cioè, non so, però, scusa, se no, squalifichi Murigny e arrivederci. Sì, no, dico solo che... Detto in precisione, non era Rocchi, il disegnatore, era Rizzoli, dopo quel famoso Juve Inter. Non avete il dubbio che Serra non sia proprio un ometto molto chiaro? No, ma non per... Non lo so, più che altro perché anche il labiale, il labiale non sembra quello che dica Serra, no? Io dico solo che... Sì, è molto diverso. Io dico solo che uno che ha la sua età e quindi agli inizi della carriera arbitrale, uno che vanta già un'immagine iconica con Rebic che gli prende il volto e lui che alza le braccia scusandosi e poi un, diciamo così, un richiamo in procura per una situazione denunciata da un allenatore che addirittura minaccia le vie legali, credo che già questo basti per... Quello, secondo me, però, Michael l'ha fatto per spostare. Fate mettere Matteo e Dodo. Beh, però l'avete detto, lo conoscete meglio di me, meglio di tutti. Sì, Mourinho è uno, come ha detto lui, emozionale. E uno emozionale non è un folle. Matteo? Per dire certe cose in tv. No, però anche noi sbagliamo a essere sempre un po' come dire benevoli con calciatori e allenatori. Cioè gli allenatori possono mandare affa tutti i giorni un arbitro e vabbè ci sta roba di campo. Serra, una volta, sbagliando, sia chiaro, ha risposto e lo trattiamo quasi come se fosse un pazzo. È un ufficiale di gara, Matteo. Serra, quello di Rebic, cioè onestamente... No, Matteo, è un ufficiale. Cioè, Serra avrà sbagliato, però anche gli allenatori si devono dare una calmata e ogni tanto è ovvio che trovi uno che sbagliando impazzisce e ti risponde. E ti manda... E paga le conseguenze perché è un ufficiale. Ma a me pare che invece lui non sia stato chiaro, Matteo. No, ma a me pare, scusa, che problemi avrebbero avuto adesso detto fra noi a squalificare Mourinho. Non è mica la prima volta che viene squalificato Mourinho dalle manecce, adesso onestamente. Cioè, che problemi avrebbero avuto? A me sembra invece che qui non è rispondere magari... Ma il problema è che Serra, secondo me, non si ricorda bene che cosa ha detto. Ma no, ma provato. Che cosa ha sentito e che c'è. No, ma lo sai che lui stanno provando la scappatoia. E ovvio, cosa ha detto? L'abbiamo visto, dai. Ma non è così. Che poi, oggettivamente, è sbagliato, ma non è offensivo. Cioè, vai a casa? Non è vai a fa. E vai a casa. No, però, scusa, perché l'associazione di solito siamo tutti a difendere gli altri? Gli arbitri, dai, diciamo, al di là che siano tifosi, diciamo sempre. Sì, però, cavolo, come dici te, calciatori e allenatori comincino loro e gli arbitri hanno anche diritto. No, però, Matteo, se ti dicessero vai a casa, vai a casa, ti prendono tutti per il... Scusate il termine, ma non lo dico io, quello che direbbe Serra. Ti prendono tutto lo stadio, ti prende per il culo, vai a casa, è un po' diversa. Ma no, perché hai sbagliato, eh? No, perché hai sbagliato, è una provocazione. Siamo d'accordissimo. Io li prenderei tutti e due. Scusate, però quello che non mi piace è Murigno e, vabbè, Murigno lo sappiamo. Serra, poi ci c'è, come si è permesso di fare. Ma non è così. Matteo, non è il tono e la parolaccia, perché secondo me è il tono e la parolaccia. Basti pensare a come è orsato anche a livello di... di come... di che gesti fa, di come... di mimica, ecco. Basti pensare a orsato, secondo me la parolaccia nel dialogo tra l'ufficiale e il tesserato è una cosa quasi ormai che... Sì, a voglia. Ok, perfetto. È l'atteggiamento provocatorio che, dal mio punto di vista, non può passare liscio di un ufficiale di gara. Mani in tasca, ti stanno prendendo per il mulo, vai a casa. Perché questo te lo può... è una cosa che ti può gridare il tifoso della prima fila che è dietro le panchine, non l'ufficiale di gara. Ma magari Murigno ha anche detto... No, ma io ho detto che vanno puniti entrambi, non ho detto che Serra non ha fatto nulla. Ma qui nessuno sta dicendo... Qui nessuno sta... almeno io non penso questo. Io non sto dicendo che Murigno non debba essere più squalificato che Murigno... Perché Murigno è stato... è stato squalificato per una polemica, per una critica, per aver contestato in maniera veemente una decisione arbitrale. Ed è questo un capo d'accusa che troviamo ogni settimana sui comunicati del giudice sportivo. Qui però l'unicum della questione è l'atteggiamento di un ufficiale di gara, torno a dire, che non toglie nulla all'atteggiamento di Murigno. Ma anche questo è strano, perché se Serra è un intimidito, come dicevamo, che si fa mettere le mani in faccia da Rebic, alza le mani, piange, chiede scusa, mi sembra anche strano che adesso Serra abbia perso la brocca e abbia detto delle robe inenarrabili a Murigno. Non lo so, sicuramente posso dire che Serra non ha saputo raccontare l'episodio come l'ha raccontato Murigno, perché se no... Si fa da sedere anche Dogio? No, io tutto sommato sono d'accordo con voi, nel senso che io credo che Murigno se gli è stata tolta la squalifica, perché evidentemente non era colpevole, Serra deve aver detto qualcosa di troppo. Non l'hanno tolta però, Dogo. Si, però per accertamenti, lui vuole dire... Sospesa. Vabbè, ma di solito non la sospesa. Però inizialmente era stato squalificato per Roma e Lugo. Certo, vuol dire che c'è del materiale, ragazzi. Ragazzi, ma scusate un attimo, Scusate un attimo, Serra non era bravo neanche dopo Spezia Milano, in quanto ha comportamento. Anche se sono stati due errori differenti. Lascia perdere, lascia perdere, ma un arbitro con la personalità che dovrebbe avere un arbitro. Rebici le mani sulle guance, non gliele mette, e scusa pubblicamente in mezzo al campo. Non lo chiede. Quindi già quella situazione lì, al di là dell'errore tecnico che è capitato quest'anno anche all'Inter, quindi ti dà la dimostrazione che purtroppo può capitare a chiunque. Infatti prendiamo Di Bello, Di Bello, vede una roba fuori dal mondo. Di Bello fa una follia. No, però non è che appunto poi fa, scusate tutti, non è rigore, giochiamo. Vorrei che finisse un certo d'odio. Anche Juan Lucas Acchi non è che chiede scusa a Monza. Comunque lo stavo finendo, quindi secondo me alla fine se a Mourinho gli è stata, diciamo così, sospesa la squalifica è perché comunque penso che evidentemente abbiano fatto le valutazioni giuste e quindi evidentemente... Si vuol dire che Serra non è credibile, dai ragazzi, vuol dire che Serra... Era colpevole lui. No, comunque non è credibile. Io non l'hanno solo rinviata. Non è credibile. Cosa Teo? No, per me l'hanno solo rinviata. Vedrai che quando si chiuderebbe questa vicenda gli fermano tutti e due. Però Matteo non c'è rischio che poi dopo c'è la polemica. Ecco, con la Juve è andato in panchina, però poi dopo lo togli... Vabbè, chi se ne frega. In un paese di polemiche ci sarà sempre, ci mancherebbe. Se pensi che Mourinho addirittura nella post partita è riuscito a dire che Serra lo faceva, perché poi c'era Roma-Juve e lui essendo non di Torino ma di Pinerolo, quelli vicini a Torino, lo faceva in quanto Juventino. Cioè, penso a te... Poi lo Juventino c'è in tutta Italia, non è identificato nel torinese. Ma non prendiamo Mourinho. Vabbè, però... Mourinho perde con la Cremonese la prima cosa che fa, si siede e fa, vado a denunciare l'altro. Credo di non offendere la sensibilità di Serra nel dire che ha dimostrato in un'occasione di debolezza, in una situazione invece dove voleva dimostrare autorevolezza, ha dimostrato di non avere carattere per poter reggere il ruolo di ufficiale di gara in Serie A. Più che altro i suoi superiori, nel senso che sono i suoi superiori che dicono da come ce l'hai raccontata è meglio che facciamo un supplemento d'indagine, guarda, perché non ce l'hai raccontata in maniera chiara. Se i suoi superiori non lo vedono così... Cioè, ma veramente voi vi immaginate... Ma credo che anche quando Orsato non era questo Orsato, cioè un Orsato ai primi due o tre anni di carriera, io credo che mai avrebbe fatto quello che Serra aveva fatto in occasione di quel Milan Spezia. Fece un'intervista a Sky, il mea culpa di Serra a Sky. Mi sta venendo in mente adesso. Lo ha fatto Serra. In queste registrazioni, successivamente si scopre che deve schiacciare il pulsante se non si registra. Sì, anche quello, il pulsante del quarto uomo non l'avevo mai sentito. Neanch'io, ma ogni volta scopriamo... Se ci pensate ragazzi, è ovvia la cosa. No, no, no. Perché scusate. No, no, no. Guarda Matteo, la sera che è successo il pandemonio, avevo il studio Capuano. Giovanni ha dei rapporti molto confidenziali con i vertici dell'AIA e in tempo reale, penso di non dire niente di sconvolgente, si è messo in contatto per capire se la registrazione ci fosse oppure no. E Giovanni poi ha detto che la registrazione doveva essere automatica, anche perché lui è stato nella sala VAR, ha seguito tutte le procedure e tutto quanto, in teoria ci doveva essere, ha detto di Giovanni. Allora, sicuramente l'audio l'hanno sentito, qualcuno l'ha sentito. Poi oggi scopriamo che bisogna schiacciare il pulsante, vabbè, ma al di là di quello, ma io, quarto uomo, se non ho niente da nascondere e se sta venendo fuori un pandemonio con Murigno che è da di matto, la prima cosa che faccio è schiacciare il pulsante per far capire poi, per far partire la registrazione in maniera tale che se esce fuori il casino. Se io a Murigno che mi sta dicendo? Uomo di M, pezzo di M, figlio di P, schiaccio, pulsante, in maniera tale che poi… E aggiungo. E aggiungo. No, ragazzi, perché quest'anno di poi noi ragioniamo con tutto quello che è venuto fuori. La verità, ragazzi, è che per loro è l'ABC. Cioè, ogni giornata sono lì, o è un allenatore o è l'altro, ma ti insulta. E non è che ogni volta stai a dire, o registriamo perché chissà cosa viene fuori dopo. No, chiami l'arbitro e gli dici, buttalo fuori. Lo butto fuori, è finita. Cioè, è una roba per loro normale, purtroppo. Quindi magari non ti viene normale da schiacciare per dire chissà cosa viene fuori oggi, chissà che casino, no? Però diciamo, Matteo, diciamo che negli ultimi anni abbiamo visto un atteggiamento da parte degli arbitri di supponenza e di presunzione che andrebbe smussato per il bene di tutti. Ed è lo spettacolo. Adesso mi viene in mente, siccome c'è Conte che mi passa in bassa frequenza, essendo avversario del Milan domani, mi viene in mente quando Maresca, uscendo dal campo, gli dice devi saper perdere. Cioè, anche quelle non sono frasi che un arbitro si dovrebbe permettere di dire. È vero, Marco, però, ragazzi... Sono esseri umani, sono ufficiali. Conte, vado in urla, vado in faccia. Cioè, vado a mente, vado a me, l'ultimo esempio che mi viene in mente adesso. Fiorentina-Milan, sai che sbaglia l'arbitro, forse era di Berlio, non mi ricordo, inventa un rigore per Cabral, cioè una mano di Cabral che non esiste, il VAR lo chiama e glielo fanno togliere. Dopo che l'ha tolto, l'italiano gli va a 10 centimetri dalla faccia a urlargli in faccia. Infatti è stato ammonito. Ma è una foglia. Cioè, ma già solo quel comportamento, ma per me vai a casa. Sì, ma la differenza è che l'italiano si becca il giallo ed è passibile di squalifica. Gli arbitri non è che perché siccome a loro non può essere fatto nulla devono permettersi di dire anche provocatoriamente devi saper perdere. Perché comunque è uno l'ufficiale e l'altro no. L'ufficiale deve dare il buon esempio. Si sembra un giallo italiano che non se lo fila a nessuno. E a lui non cambia niente che avere la faccia di serra come è capitato a lui da una settimana su tutti i giornali come se fosse il mostro di Firenze. Ma no, il mostro di Firenze no, ma nessuno dipinge come un mostro di Firenze. Però evidentemente qualcosa deve essere successo, no? Sì, ma non è che gli ha insultato tutta la generazione. Ma nessuno l'ha detto questo. Gli ha detto vai a casa. Sì, però la prima cosa che mi dice... E' già capire se gli ha detto solo vai a casa. Perché non pare che gli ha detto solo a casa. Allora, al di là di italiano che gli avrà detto, proprio te lo volevi inventare questo rigore. Allora, facciamo così, andiamo un attimo in pubblicità, riprendiamo tra poco. Vabbè, sì. Ancora diretta, Gianluca cosa volevi dire? No, no, ripeto che purtroppo sicuramente sono talmente esacerbati gli animi per cui i calciatori e allenatori ti dicono di tutto, è vero. Però la prima regola dell'arbitro, credo che gli venga insegnata, è tu non reagire, tu stai zitto, tu appunta, segna parole. E Serra non mi sembra che abbia sta cosa qua. Cioè non ce l'ha nel DNA. Insomma, ripeto, Di Bello, perché faccio sta? Di Bello vede una cosa che non esiste. Gliela correggono al VAR, si piglia gli insulti di italiano assurdi, perché sono d'accordo con Matteo, che ormai l'ha tolto, però proprio la voleva inventare. Niente, l'ha munito, ha ripreso la partita. L'allenatore si incazza perché comunque quello è un episodio, c'è l'interruzione, lo stadio che mormora, magari Milan si prende coraggio. Ma io guardo l'arbitro. Di Bello, Di Bello è andato avanti, ha detto, dentro di sé avrà detto, ma no, però hai capito, non è che è stato lì, no vabbè, comunque scusa, no, giallo, giochiamo, basta. Perché comunque mancava ancora sette minuti. Ma lo stesso Sacchi, adesso lo dico con te, Sacchi toglie lo stesso gol che toglie Serra al Milan, fischiando prima sul colpo di testa di Acerbi a Monza. Oh, non è che l'ha fatta tanto lunga, cioè è andato avanti, ha continuato arbitrario, tutti mi hanno detto, è sbagliato. E non è che è stato lì come Serra, oh ragazzi, perdonate, vengo in spogliatoio. Cioè, basta, sbagli, tanto ti massacrano sempre, non è che sei più simpatico e la gente, soprattutto in Italia, ti perdona di più se vede che a un certo punto ti scusi. Siamo in un paese dove non si scusa nessuno e curati se deve scusare l'arbitro, che è proprio quello che ormai è andata, basta, tanto ti danno quattro in pagella, al limite ti fermano, ti smettono. Invece mi pare che Serra torni spesso sui suoi errori, sulle sue cose, lascia stare, vai avanti, scrivi quello che ti ha detto Murigno, vai avanti. Tu dai il tuo referto e finisci lì. A me sembra invece che c'era lì il quarto uomo, anche Piccinini, che guardava anche lui un po' Serra perplesso. Quindi, cioè, evidentemente sbaglia lui l'approccio. Vabbè, comunque... Addirittura si parla di dismissione a fine... Non mi dà un'idea di... Sai, perché piuttosto, adesso non si dovrebbe dire, ma è meglio l'arbitro, anche se ti dicono, fate dialogo, eccetera, ma se fai dialogo con questi qui, lo dico anche dei miei, no? Non vai più a casa. Adesso si dimentica di dialogare. O sei casarina, agnolista, gente qua, che il dialogo era, tu puoi dirmi qualsiasi cosa e finisce con un cartellino. Quindi pensaci bene, ciao, giochiamo. O hai quella personalità lì, che c'avevano quelli di una volta, o altrimenti oggi, no, ma parlate, cercate di spiegare. Ma questi fanno finta di non capire, dai. Cioè, adesso onestamente, non è che qualcuno del Milan, quando ha visto lì Cabral, oh, non c'è stato uno che ha detto, ma no, cos'è? L'hanno preso il rigore, ha detto, ma che me ne fai giustamente. Quindi questi qua sono i primi che cercano di fregarti in campo. Tu vai dritto per la tua strada, fai l'arbitro, tanto ti contesteranno sempre. Pollina non era uno mica di che stava lì tanto. Solo una volta l'ho visto io. Zio, ti spiego col fischietto in mano, ti ricordi? Ma guarda, a me spiegava Marelli, e diceva, il grande arbitro, il Waffa, glielo restituisce. Ma sa quando farlo, perché non è inquadrato. Perché se tu, nel momento in cui ti ammonisco, ti rispondo, so che ho tutte le telecamere addosso, e mi beccano. Basta che riprende l'azione. Quando gli corri di fianco, gli dici, scolta, il Waffa, ci vai tu? No, a parte che li ho visti, Matteo, a parte che li ho visti una volta un paio di altri, che erano inquadrati, ci vai te, e tanto si continuava a giocare. Non è successo niente. Ma se fosse stata un'altra partita, e non probabilmente una gara della Roma con Mourinho, No, non fosse stata Mourinho. Eh, non sarebbe un po' Mourinho. Mourinho, ma Mourinho... Perché quando la colla non rimane di 20 minuti, no? Ma Mourinho, ma Mourinho... E ovvio che se buttano fuori Mourinho, giustamente, il regista sa che può fare di tutto Mourinho, e non stacca la telecamera. Però non è vero, dai, Matteo, anzi, può fare di tutto, se è sempre lì, è squalificato per le manette, è squalificato per... E appunto può fare di tutto. Ho capito, ma c'è 10 squalifiche, cioè giustamente come tutti gli altri le squalifiche. No, può fare di tutto, nel senso che a livello mediatico può fare un cinema e il regista non staccherà mai l'inquadratura. Ah beh, certo. No, ma poi devo dire che il capolavoro è riuscire a far passare Cremonese-Roma a una sconfitta cioè sotto silenzio. Cioè con tutto sto casino, perché lui, la sua strategia è quella di spostare l'attenzione dalla partita che ha preparato male, in cui ha allenato male, in cui ha sbagliato i cambi, queste robe dovrebbero avere... Era così anche all'Inter. Queste robe dovrebbe averle in zaghi. Quando io dico Conte è uguale. Conte quando vince 4-1 comincia a parlare di calciopoli che non c'entra niente. Ti ricordi? Col Parma. Loro e Parma, sì. Cioè loro hanno a livello comunicativo questa cosa qui, per cui tutti a un certo punto cambiano... Dico, ma... E uno va a casa e non si ricorda neanche che è finita Cremonese 2, Roma 1. Però parliamo anche di Milano. Partita importantissima di Champions League la gara che vale una stagione Michael. Recuperato Giroud? Recuperato Brahim Diaz. Tutte e due partiti verso Londra. Stasera parlerà Pioli con Krunic. Anche questa è una... È un indizio di formazione. Poi vediamo, perché diciamo che la conferenza stampa è stata organizzata prima di sapere se Brahim Diaz sarebbe stato della spedizione oppure no. Krunic è comunque polivalente, nel senso che può andare a giocare sulla tre quarti al posto di Diaz se Diaz non dovesse essere pronto per la titolarità o a centrocampo al posto di Ben Nasser che anche lui rientrava da un infortunio a Firenze e ha dimostrato di avere ancora diciamo così una condizione fisica precaria. Vedremo quel che succederà. Giroud è in attacco il titolare. Quindi... abbiamo un'ipotesi di formazione? C'è qualche dubbio. Ciao o Kier? Perché Kier ha affermato bene che Kane all'andata. Che ha fatto moltissimo bene all'andata benissimo soprattutto nel secondo tempo su Kane. Quindi contomori... ha affermato... No, Kier. Ciao così così a Firenze, no? No, ma ciao... Chi è che ha affermato? Non era affermare Kane non era stato Ciao. No, Kier. Allora, siccome Ciao aveva giocato un po' a sorpresa si era detto grande partita di Ciao ha affermato Kane. L'ho letto. In realtà uomo su Kane soprattutto nella ripresa c'era stato Kier. Ah, quindi non era... Quindi Tomori, Calulu e dubbio Kier-Ciao in porta a Mignan dubbio Benasser-Krunic al fianco di Tonali con Calabria a destra Teo Hernandez a sinistra davanti c'è Giroud alle sue spalle c'è Leao e uno tra Krunic e Brahim Diaz. Questa è la partita dove Leao si può esaltare fondamentalmente. Loro dovranno sbilanciarsi Leao potrà essere... Leao dal mio punto di vista nella partita contro il Chelsea di Stamford Bridge era stato l'unico in grado di far vedere qualcosa nel nulla cosmico del Milan. Si vedeva che era esaltato dal palcoscenico e si vedeva che era esaltato dalla grande occasione di mettersi in mostra e credo che domani sarà lo stesso. Mi hanno detto che il Tottenham in casa ha una differenza di rendimento rispetto alla trasferta che si vede a occhio nudo e si percepisce con grande chiarezza e quindi immagino di trovare un clima infuocato una squadra molto 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 motivata il ritorno di Conte sicuramente farà il suo la grande occasione per Conte di avere un risultato europeo diciamo così soddisfacente farà anche il suo non sarà facile una partita molto molto complicata per nulla scontata. Conte non ha mai raggiunto i quarti di finale ah no con la Juve con la Juve è vero nel 2003 e quindi e quindi e quindi e quindi e quindi e quindi questa è questa è la diciamo così la panoramica sulla partita di domani sera e Milan secondo me ne parlavamo ieri in relazione a Fiorentina Milan e lo dico in relazione a domani il Milan non è una squadra che può permettersi di gestire quindi il Milan domani deve entrare in campo come se dovesse ribaltare lei il risultato perché se entra in campo pensando intanto ho l'1-0 per sfruttare il risultato all'andata intanto ho l'1-0 posso anche prendere gol che siamo ancora pari se entra così va malissimo il Milan è una squadra che non può abbassare i giri del motore dell'attenzione della corsa e però non andare neanche là con l'idea adesso vi insegno come si gioca a calcio no 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 stile allegri io non 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 faccio calcoli ma intanto mi difendo a 5 e quando e quando ho spazio riparto riparto come? con le au pubblicitari partiamo da qui rieccoci stavo leggendo alcune dichiarazioni di Conte peraltro la Gazzetta dello Sport parla di un giallo perché colleghi italiani non sarebbe stato permesso di fare domande e certo perché sennò gli chiedevano tutti torni alla Juve torni all'In torni di qua guarda io per educazione posso chiedere anche agli inglesi infatti ma per educazione allora io so si fanno fare sempre prima le domande ai colleghi che arrivano da fuori agli ospiti e poi parla Conte si presentò all'Inter se ricorderai con una conferenza stampa per pochi intimi quindi io so che io so che lui ha amici tuoi che lui ha organizzato che la conferenza è stata organizzata in questo in questo orario alle 13 perché l'aereo più gettonato il Milano-Londra più gettonato dai colleghi italiani era quello che arrivava lì alle 14.30 però guarda questa è la gazzetta non è che me lo inviti c'è l'articolo d'apertura e poi io avevo fatto l'unica domanda sul futuro l'ho fatta io all'andata e ti posso riportare l'addetto stampa del Tottenham che mi ha guardato un po' in cagnesco però diciamo che aveva molta voglia di parlare di futuro Conte stasera so che lo riproporrai parlando delle attuali voci molto più Conte aveva voglia di parlare di futuro che il Tottenham sentirlo parlare di futuro ma guarda questo è proprio l'articolo della gazzetta che proprio in apertura proprio nell'attacco dice riportando le parole di Conte dice ieri in allenamento mi sono reso conto di avere tanta energia doveva trasferire i giocatori per questa partita raccontare inglese con le domande dalla stampa italiana stranamente non permesse e dovrebbe essere anche l'UEFA stessa a regolamentare questa cosa tant'è che come ben sapete è rimasta un po' la tradizione ci sono domande degli ospiti stranieri prima delle domande consuete degli italiani Matteo? beh già il fatto che la gazzetta ha lo schermo nel pezzo ti fa capire che non l'hanno presa bene giustamente no però al di là del comportamento ormai riservato spesso alla nostra categoria ma perché qualcuno decide di non farsi fare domande dalla stampa italiana cioè io ah tu dice che sei stato Conte a chiedere di non fare allora lui risponde all'unica domanda sul futuro risponde al sottoscritto che si era peraltro scusato però con tanta voglia di rispondere per fare una domanda in maniera educata e civile aspetta nel senso vabbè mister mi scusi mister mi scusi capisco non sia il momento però non è che vengo tutti i giorni in Inghilterra ad intervistarla le chiedo se com'è stato il suo ritorno e se le farebbe piacere tornare e lui a questa domanda ha risposto che gli piace voleva farla uscire sta roba oggi si parla di Inter qualcuno avrà detto non fate fare domanda agli italiani nei giorni in cui si parla a parte che il pezzo della gazzetta cioè il pezzo della gazzetta per la serie giornalismo coraggioso è Conte si è ripreso il Tottenham punto quindi parti così poi stranamente non fanno fare di dove stranamente scrivi vergognosamente stranamente cos'è stranamente stranamente cosa perché domani gli devi riparlare no perché questo è un pezzo di denuncia due paure cioè il pezzo è il pezzo è Conte si è ripreso il Tottenham ma se non sei ancora lì vienerà due sconfitte sì ma allude al fatto che evidentemente che evidentemente c'è qualcosa sotto delle ultime voci per cui non sono permesse domande ai giornalisti italiani ma secondo me Michael non è un'idea sua è un'idea della società ma penso anch'io siccome la è una gran voglia di parlare di futuro sì ma lo farà se ha voglia tanto guarda lo fa domani sera ma domani sera c'è sempre c'è sempre l'omino del Tottenham che col ditino indica probabilmente è successo che come una gara delicata avranno detto facciamo parlare solo gli inglesi agli inglesi niente domande sul mercato anche per non distrarre la squadra in vista della partita con il Milan però Dodo nel caso la società non doveva dire ai giornalisti non fate le domande doveva dire all'allenatore non rispondere sul futuro no? non parlare di mercato se ti fanno la domanda no ma ho pensato io che ha detto così come non ci sono gli italiani magari no ma loro l'hanno fatto prima se è vero quello che dice Michael che è il grosso delle nostre armate hai capito mediatiche che arriva nel pomeriggio l'ho fatto alle 13 se poi non ne vuole parlare dice scusate c'è una partita io so anche che per la partita d'andata il Tottenham aveva comunicato diciamo così come linea comunicativa a chi poi avrebbe fatto anche le one to one che nel nostro gergo sono le interviste singole di non affrontare il tema Juventus che vede coinvolto peraltro paratici con il loro tesserato tant'è che di futuro oltre alla conferenza stampa di futuro lui dice soltanto che è bello tornare a San Siro perché con l'Inter aveva fatto grandi cose e non dice come poi ha detto in conferenza stampa specificatamente e fare il vecchio come sempre però in questi casi è capitato mille volte anche a me poi se non vuoi parlare non parla dice adesso c'è da pensare alla Champions League però come quando Skriniar è uscito alla festa di Natale perché c'era la Sky che aveva pagato 25 mila euro non mi ricordo per trasmetterla diretta e quindi era solo loro cioè c'è un sistema meraviglioso comunque per non fare noi la figura di quello che non fa le domande che è allora come concordato non posso fare domande sul futuro e allora la domanda è questa perché se no sembra che tu ce l'hai lì davanti allora come va la partita com'è il tempo grazie arrivederci cioè uno ti dice ma scusa c'è solo una domanda da fare perché non gliela fai quindi quando a me mi dicevano a me dicevano guarda che Cooper mi ricordo una volta Cooper non risponde a domande sul futuro dico sì ma io non faccio la figura del cretino per cui mando in onda l'intervista e poi in dieci mi dicono allora io dirò non potendo fare domande sul futuro Cooper come mai questo taglio di capelli però almeno fai questa premessa perché se no quindi siccome credo che sia il Tottenham effettivamente adesso pensandoci bene ci sta che il Tottenham dica ragazzi già siamo in una situazione in cui questo avrebbe un'opzione ma ci fa capire che è appena rientrato ho fatto 15 giorni con la scienza in Italia non è se cominciamo ad andare sul resto noi dobbiamo passare a tutti i costi mister facciamo la conferenza alle 13 tanto se Conte domani vorrà parlare di futuro non è che si fa problemi a farlo ci sono anche le interviste quelle obbligate le pay per view le devi fare obbligatoriamente non è che non puoi farle ma la pay per view lui avrà detto è più facile prima che fare un'intervista dire ascolta non mi fanno domande sul futuro appunto e non le fanno però lo devi dire però perdonami io sinceramente io Gianluca ti capisco tu hai vissuto fortunatamente un'epoca totalmente diversa da quella attuale tu intervistavi i giocatori in ascensore oggi vai in ascensore in ascensore non puoi neanche schiacciare il tasto che te la bloccano perché devono entrarci altri ma infatti scusa ma concordi con l'ufficio stampa dico ok obbedisco l'ufficio antistampa solito e dici però non posso fare la figura del cretino gli chiedo quello che voi volete che dica però fammi assolvere me stesso e dire vorrei chiederti sul tuo contratto ma non potendo farlo dimmi la della partita però secondo me è il segnale anche partendo dal presupposto che se me è davvero stata la società a dire no domande sul mercato degli italiani secondo me è anche scarsa fiducia in conto stesso perché se tutti no non è scarsa fiducia Matteo Matteo per me è ancora peggio cioè il Tottenham sa che lui vuole parlare di quello cioè quando tu fai quando tu fai il ragionamento so che lo proponi spesso il Cristiano Ronaldo e l'Ibraimovic del Milan e della Juventus sono figure più grandi dei club stessi cioè Conte e il Tottenham sanno sanno che non è Conte privilegiato ad essere al Tottenham ma è il Tottenham privilegiato ad avere Conte e quindi no questo no questo no secondo me sì perché la visione la visione che abbiamo in Italia di Conte non è quella che hanno all'estero all'estero sono loro che ti dicono ma tu chi sei però anche all'estero lo sanno che ha vinto quattro scudetti Matteo sì però si sono accorti l'anno scorso che da decimi sono arrivati in Champions League si sono accorti l'anno scorso che da decimi sono arrivati in Champions League ha vinto anche col Chelsea il campionato però un attimo di equilibrio io sono un contista su questa ragione anche Caroni cioè all'estero vedono anche che però è la prima volta forse che vai ai quarti da illo tempore cioè no guarda tutto Gianluca 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 Ibraimovic una volta una volta mi ricordo un evento con Ibraimovic un anno e mezzo fa due anni fa Ibraimovic la regola era non si fanno domande extra presentava le cicche gli integratori non si fanno domande sul calcio arriva il primo collega che dice non sapendo di questo indirizzo dice gli fa una domanda mi pare sulla Superlega interviene chi di dovere dice no come previsto non si parla di questi argomenti Ibraimovic dice non me ne frega niente stai zitto ci penso io e risponde sulla Superlega dicendo tra l'altro dando una delle sue risposte e poi lì rispondi alla prima e parli di calcio qui Conte più o meno non dico che ha la grandezza libera ma Conte fa lo stesso però posso dire una cosa l'unico modo che il Tottenham ha per fermare Conte in conferenza stampa nel parlare di futuro non è dire a Conte non parlare di futuro è evitare che i giornalisti facciano le domande posso dire una cosa è che tu sai già che se anche gli dici Antonio ti faranno delle domande sul futuro dici che parliamo solo della gara lui ti dice di sì ma poi parla è quello che ti ho detto io è quello che ti ho detto io perché il suo interesse è farlo lui se vuole mettere sul mercato sì ascoltami ma è per dire è per dire Matteo è per dire Matteo che Conte non è proprio lo yes man Stefano Pioli che fa tutto quello che fa la società a proposito di Pioli neanche Simone Inzaghi poi ci torniamo su Conte vorrei tornare un attimo sul Milan perché Michael che succede? superare il turno col Tottenham vuol dire salvare la stagione cioè se viene eliminato oggi col Tottenham domani domani vabbè allora io ti faccio allora io Alfio allora io Alfio ti faccio la posizione di Pioli come diventa? no io ti faccio questo prospetto arrivi ai quarti poi ti fermi e arrivi quinto in campionato cosa fai? eh ma come giudichi la stagione in tutte le due quarti negativa in quel caso se vai fuori dalla Champions basta pensa che all'Inter la giudicano negativa sia se che arrivi secondo sia che vinci la Coppa Italia sia che arrivi ai quarti non va bene no dico per dire com'è la differenza sono due basi di giudizio diverse sono sempre due basi diverse Pioli comunque vive anche di eredita dello Scudetto e c'è anche quello da dire per carità di Dio ma allora dicano non è un Pioli anche se arriva quinto e esce agli ottavi ci può stare perché il Milan non è a successo magari viene confermato però è chiaro che la stagione se arrivi quinto esce ai quarti dicembre si ma tanto siccome decide Maldini scusate siccome mi sembra che lì Maldini Maldini è la sua espressione non mi pare che Maldini abbia mai messo tant'è che qualche collega più vicino certamente di me alle cose rossonere scrive addirittura che se anche dovesse arrivare quinto resta ma sì ma più che tranquillità nel video quante volte tu hai parlato di io penso fino al 4 giugno del 2023 quante volte l'hai detto ma io sì ma vedi che l'Inter in realtà l'Inter ancora prima di giocare le partite pare che abbia già dato un giudizio negativo no no ma io tu sei la rappresentazione verbale plastica qui del ragionamento dell'Inter che è diverso da quello del Milan il motivo per cui i ragionamenti che si fanno sul futuro di Inter e Milan sono diversi perché l'Inter è una squadra che era più pronta per vincere oggi mentre il Milan aveva il Milan ha bruciato delle tappe che neanche il Milan stesso si aspettava di bruciare quindi oggi ti dico oggi ti dico che la partita di domani darebbe una grande soddisfazione alla stagione a via di quello non mi avete risposto e ti sto rispondendo la partita di domani darebbe grande soddisfazione ma se arrivi ai quarti di Champions League e poi arrivi quinto in campionato la stagione è fallimentare ma facciamo che arrivi qua ma rischia Pioli o no? ma no allora secondo me Pioli non rischia ma la sua conferma senza dubbio anche in caso di mancata Champions League a fine anno io la mano sul fuoco non ce la metta scusa però è mal posta la domanda ma non perché la poni male tu ma perché dovrebbe arrivare il quinto? ma come perché potrebbe arrivare il quinto? beh la classifica la mano la classifica la mancata ma stamattina eravamo in diretta insieme tu giustamente mi ricordavi la classifica oggi per la differenza reti il Milan e il quinto sì ma ascolta io ricordavo prendevo per il naso quelli che adesso da ieri sera non avete capito ma Juric è molto più bravo di Tiago Morta forse non avete capito come gli ragiona la gente Juric improvvisamente è diventato un fenomeno io sto dicendo che temporaneamente ad oggi ma mancano 13 partite teoricamente per differenza reti che non vuol dire assolutamente nulla perché è un gol di più quello che ha fatto la Juve il Milan e la Roma però non vi sono grandi dubbi secondo me la domanda è basta il quarto posto e i quarti di finale per dire va bene la stagione positiva scusate secondo me no no però quarto posto lo confermo ma quarto posto ragazzi Inter e Milan adesso non vorrei dire ma io credo che dietro il Napoli magari sbaglio io ma secondo me il quarto posto è una cosa che si giocano sulle 13 partite che mancano calendario alla mano perché poi l'Inter può fare qualunque cosa e il Milan anche però se lo giocano le Romane e la Juventus Gianluca Gianluca è tre anni che facciamo ma Gianluca perché è tre anni che facciamo no ma anche io non lo dico ma scusa allora nella normalità anche per me Napoli Inter Milan è una delle due Romane più l'Atalanta se la vedessero loro ma è tre anni che facciamo calcoli e previsioni e non ne azzecchiamo mezza non è vero come no il Milan e l'Inter sono sempre andati ultimamente allora due anni fa due anni fa due anni fa dicevamo il Milan l'ultima giornata il Napoli l'ultima giornata al Verona il Milan va a Bergamo con l'Atalanta il Milan non arriva in Champions League il Napoli pareggia col Verona sta fuori il Milan va a Bergamo vince 2 a 0 infatti quello fu sorprendente sorprendente l'anno scorso dicevamo l'anno scorso dicevamo il derby un episodio l'Inter alla lunga vincerà perché il Milan non farà filotto non succede è successo però le milanesi ormai sono tornate perdonatemi stabilmente in Champions League da quante stagioni e no e no Gianluca e no Gianluca questo è l'errore che più della tua Inter non deve commettere il Milan pensare di essere tornato senza alcun dubbio e senza alcuna fatica ad essere quello dell'essere stabilmente in Champions League ma non sto dicendo quello sto dicendo che secondo me però è molto più da rimarcare il fatto che il Milan non sia mai stato competitivo neanche per una giornata in questo campionato non è vero non è vero fino al mondiale fino al mondiale l'antinapoli era il Milan ma come no ma come no non vedi dietro non diceva la classifica voglio sentire anche Matteo Caroni restate con noi riaccoci torno da Matteo Caroni voglio sentire anche il suo parere cioè Pioli come lo giudichi se dovesse uscire se dovesse arrivare quinto c'è una notizia scusami c'è una notizia che magari tu essendo in conduzione ma è appena arrivata sulla chat ridanno un punticino alla Juventus adesso lo vado a prendere ha detto così sembra che ne danno uno dei quattro dei quindici però no tu hai detto ridanno un punto alla Juve sembra che invece i quindici gli danno quattordici no c'è una novità importante sulla quale secondo me la logica può cambiare davvero tutto perché è l'Ajumentus a questo punto può avere ragione nel ritenere inammissibile la richiesta di revocazione della precedente indagine sulle presvalenze per tradurre nei soldoni se veramente dichiarano nullo la condanna che ha appena ricevuto si torna come prima e quindi niente meno quindici allora eccolo qua da caccia finanza a caso Juve un punto per i bianconeri poi anche a me è arrivato in diretta dal Tar via libera alla carta nascosta la difesa della Juve segna un punto nel caso di plus valenza il Tar del Lazio infatti dato il via libera all'accesso per i regali del club bianconero alla carta finora segreta in riferimento infatti alla nota 10.940 segna un punto in termini giuridici in cui la Covizoc no ma io ho letto il titolo un attimo ero in diretta in cui la Covizoc chiede alla procura federale alcune interpretazioni legate al caso plus valenza si tratta di una carta in cui l'organo di vigilanza segnale e procure alcune fatti specie per le quali non è agevole apprezzare quali siano i criteri a cui si sono attenuti i contraenti allo scopo di pattuire il relativo prezzo in particolare al centro c'è anche la risposta nella nota della procura federale che ha fornito indicazioni interpretative alla Covizoc ai fini dell'emanazione della nota con la quale la commissione ha proceduto a una segnalazione in ordine alla valutazione degli effetti dell'accessione ai calciatori sui bilanci di alcune società professionistiche ai fini dell'iscrizione ai rispettivi campionati una carta che finora era rimasta inaccessibile fino a oggi il TAR del Lazio infatti dato ragione alle gare bianconeri dando via libera all'accesso alla documentazione va quindi ordinato alla Covizoc di ostendere la ricorrente copia della nota della procura federale entro sette giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero della notifica se antecedente poi va bene insomma ragazzi non è successo niente di che a oggi no no non avete capito c'è un supplemento di indagini la Covizoc la Covizoc che le date sono fondamentali qui la Covizoc che ad aprile 2021 chiede l'UMI alla FGC in merito al bilancio della Juve la FGC risponde e dice tutto che è a posto da tutte le motivazioni quando si riapre il caso perché la procura di Torino comincia a indagare siamo a ottobre a ottobre ovviamente riparte la Consob richiede la Covizoc eccetera eccetera ma per riaprire quando chi richiede la revocazione della della sentenza per le più valenze della Juventus dovrebbe avere 30 giorni di tempo per farlo ma i 30 giorni devono partire a questo punto da aprile non da ottobre se come ha dimostrato oggi avesse ragione la Juve lui avesse fatto considerando i 30 giorni di ottobre 2021 e non aprile in quel caso non aveva più la possibilità di chiedere la revocazione di quella sentenza e quindi non ci doveva mai essere una seconda sentenza che poi ha portato almeno 15 e questa la discriminante ecco vedremo secondo me la Juve non chiuderà con meno 15 ma non chiuderà neanche a zero vedremo quello che succederà vorrei tornare un attimo sul discorso di Pioli però perché Matteo se esci e poi magari arrivi quinto alla posizione di Pioli come diventa da campione d'Italia no vabbè se non arriva nelle prime quattro è impossibile da tenere secondo me addirittura sì pensa che invece secondo me lo tengono no oggi ragazzi la discriminante della Champions c'è ancora un anno di contratto a Pioli cioè ragazzi scusatemi era stato esonerato era stato esonerato chiedo scusa era stato esonerato Ranieri alle Istere cioè da campione d'Inghilterra e quindi nel senso nel calcio tutto capisco che a te gli out non ti fanno piacere ma non è divetti in un altro mondo nel 2016 certe cose si potevano fare l'Inter ha tenuto a bagnomaria Spalletti sulla maca pagandogli 4 milioni senza andare a Leicester l'Inter ha tenuto Spalletti pagandogli un anno l'Inter ha dato una buona uscita a Conte di praticamente che ti compravi in giocatore ho capito l'anno scorso non era il 2016 era il 2022 io dico solo che secondo me è molto difficile oggi per Inter Milan e arrivo a dire anche Juve per quanto costa l'Ordo Allegri tenere a libro paga due allenatori soprattutto se poi il secondo allenatore come mi raccontate sempre deve essere costoso migliorativo top io poi per carità è chiaro che se arrivi quinto esci col Tottenham la piazza comincia a far casino però non lo so se guardiamo la storia recente mi sembra un buono schermo posso dire che se guardiamo la storia recente le grandi iniziano quando cambiano l'allenatore hanno ancora l'altro allenatore a libro paga che lo tengono come è successo a Spalletti ad Allegri alla Juve a Sarri scusami Gianluca io sto sul tuo ragionamento il mio ragionamento è finanziario non avete capito io sto sul tuo ragionamento finanziario quindi io ti dico tu d'ora in avanti ti aspetti che le squadre cambieranno allenatore con l'allenatore in scadenza io mi as beh sì perché bisognerebbe fare così posso dire perché il Napoli ha fatto così ma il Napoli ha fatto così con l'accuso? no con Spalletti Spalletti quanti anni di contratto c'ha io non ho mica capito ha un'opzione ha un'opzione no unilaterale il grande errore unilaterale va bene il grande errore che può esercitare il Napoli è di mettere è di mettere sotto contratto gli allenatori soprattutto noi che ci piace ghigliottinarli ogni stagione il grande errore epocale è continuare a mettere gli allenatori sotto contratto per tre anni ragazzi fai un anno e più un'opzione allora se mi dite che dall'anno prossimo si fa un anno con opzione per l'anno dopo ti dico che all'Inter la mia persona deve dire Tuchel Conte però deve essere un anno io ho detto che non ci metto la mano sul fuoco ma non ho neanche la certezza di Caroni quanto guadagna Pioli? Pioli guadagna quasi siamo intorno ai 4 milioni più bonus fino al 2025 io compreso? è certo 30 giorni due stagioni quindi c'ha dopo questa il nostro è 2024 più azione a me risulta il nostro è 2024 più azione quindi Pioli Pioli no appunto due anni quindi voi volete farmi credere 16 milioni che l'anno prossimo il Milan mette lì 16 milioni così buttati via fino al 2025 perché col cavolo che ti ho poi 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 devi anche pensare puoi pensare e sperare che in due anni l'allenatore venga chiamato da un'altra squadra che discorso certo però intanto Spalletti lo speravamo allora Gianluca mi sembra di capire anche a casa tua dato che si parla di Conte mi sembra di capire che tutti i discorsi economico finanziari che riguardano la squadra da parte di ogni club ormai restino un attimo parcheggiati quando il discorso riguarda la panchina cioè per la squadra siamo attenti al dettaglietto in realtà non è il mio caso sulla panchina e beh si parla di Conte oggi non è che si parla di si parla di ieri si parlava di Mourinho l'altro ieri di Tiago Motta stamattina per la verità si parla anche di Tuchel perché ormai è la corsa quelli che devono downgradare giustamente sono in giro fanno sapere che sono disponibili ma a me piace tantissimo che siano disponibili ma oltre che disponibili sono sostenibili per usare il linguaggio di casa l'inter allora c'è Conte viene a lavorare a 5 milioni guardandola guardandola Gianluca guardandola da fuori Gianluca guardandola da fuori ti dico no e poi a parte che poi se senti gli esperti ti dicono ma sì ma il modo si trova ognuno ha le sue fonti per carità di Dio ognuno ha le sue sorgenti secondo me Conte non sta bene di salute te lo dico adesso e ho capito sta calmo si è appena operato no no non è che non sta bene Conte ha accelerato perché non riesce a star fermo un attimo io non escludo te lo dico adesso poi non resiste dopo due mesi che va a fare l'opinionista Skype e dice scusate mandate la sigla che vado perché non ce la fa sono io il primo a dirlo ma secondo me Conte io so che gente vicino a lui amici gente che ha giocato insieme ha recuperato troppo in fretta doveva stare a Torino 15 giorni vabbè ho capito ma ai fini del futuro ai fini del futuro ti fermi cioè ti fermi e Conte si fermi e vediamo si è già fermato non mi sembra poco il tipo che si fermi per una cistiferia Conte si è già fermato una volta potrebbe anche fermarsi ma quando si è fermato quando poi si è fermato dopo l'Inter dopo l'Inter ma per lì cosa ha preso la buona uscita fino all'ultimo cioè fino all'ultimo giorno Villabellina ha preso la buona uscita per l'opinionista Skype ma poi il primo novembre ne ha soltotte e certo perché non resiste cioè dopo un po' che era lì che cazzo non è quello che sento e cioè non ne ho ricordo che faceva l'opinionista televisivo però stavolta a me cioè io lo vedo non è il conte solito anche perché sta male cioè voi pensate che questo problema l'abbia risolto io so che questo problema dall'intervento no ma nessuno sta dicendo niente però tutte le cose hanno bisogno di tempo e secondo me lui è il tipo che non riesce a stare fermo dieci minuti e quindi ripeto io francamente passare un giorno da Diego Motta l'altro Conte poi tu che adesso arriverai Inter che prima di prendere Inzaghi però stava prendendo Allegri che poi sarà casato Allegri costava molto di più l'anno di Villa l'anno di Villa in realtà due volte la seconda volta di Villa comunque noi ci dobbiamo fermare con la riunione di redazione vedo già Stefano Donati chi c'è dopo? io con ancora Michael Cuomo e poi è Gianluca Rossi no e anche Matteo? no c'è Gianluca Rossi con questo tira su lo stadio io con uno che tira su lo stadio nel giro di un'ora non ci parlo beh comunque l'hai presa bene questa storia l'hai presa molto bene ma perché fa troppo ridere pubblicità grazie ai colleghi che sono rimasti qui con me ci vediamo più tardi più ridicola di questa l'ho mai sentita la Maura l'ho mai sentita l'ho mai sentita